Posso capire che, ci dice Massimo, Sogliano già anche due ore dopo la partita non fosse per nulla rasserenato, anzi visto quello che sta montando a livello ufficioso sui social nel post partita un po' turbolento. Non va, adesso lo sistemiamo. Sono curioso di sapere, nel frattempo, se Max ha sentito Sogliano prima o dopo che avessero definito del tutto tutti gli ultimi dettagli per il trasferimento di Terracciano dal Verona al Milano. Ah, non lo so, chiediamoglielo. Allora, io l'ho sentito dopo la partita, non l'ho sentito prima e quindi non ho parlato di questa cosa. Gli ho detto solo che mi era dispiaciuto il fatto che, insomma, aveva subito questo torto e queste sviste. Ah, te l'ho chiesto Max perché hanno definito tutto e fanno lunedì, dovrebbero esserci le visite mediche. Le cifre finali sono 4 più 1 di bonus più il 10% sulla futura rivente. Era giusto per prendere tempo e dare anche la notizia alla di mercato. No, no, certo, certo, assolutamente. Sì, immagino che il tema dominante non fosse il mercato, ma hai fatto bene, insomma, dare anche questo tipo di dettaglio. Prego, Luca. Dicevo che al di là dei social, dei commenti, c'è la decisione dell'AIA quasi immediata di sospendere gli addetti al VAR della partita. Quindi è acclarato che abbiano... Però, oltre al VAR, che continua a essere inconcepibile, come noi siamo il primo paese, il primo campionato che l'ha adottato e siamo assolutamente indietro a tutti gli altri campionati perché non si vedono episodi come questo. Mi dispiace, continuerò a ripeterlo fino alla fine. Negli campionati stranieri non si vedono episodi come questi. Cioè, intendo dire, con una evidente stortura regolamentare sul campo che non viene ripresa dal VAR. E quindi il fatto che... La cosa sconcertante dell'episodio di oggi è l'arbitro che continua a guardare, vede perfettamente, perché alla visuale libera, la gomitata, la sbracciata, lo schiaffo, la carezza, chiamatela come ti pare. Di bastoni. Continua a guardare il giocatore del Verona a terra mentre l'azione prosegue. Otto giorni fa, quindici giorni fa, abbiamo visto a Salerno Doveri che chiede a Calabria fermatevi che ci atterra il giocatore della Salernitana. Cinque minuti dopo ci atterra Tomori e Doveri accompagna Candereva in porta senza dire nulla. Perché certe cose poi sono condizionate drammaticamente anche dal tifo. Quindi l'arbitro perde l'azione per vedere, ma non fa nulla. Cioè, poi segna il gol l'Inter. Anche l'arbitro dice controllate, tutto a posto, perché qualcosa... No, basta, tutto in cavalletto. E c'è che ci sarà stato, come è giusto e doveroso che sia, poi... Se tu vedi le immagini, l'arbitro continua a seguire. Dopo aver visto benissimo il fallo, che è un fallo da munizione e basta, si interrompe il gioco, chiusa la discussione. Lui sta lì a guardare il giocatore del Verona, intanto gli giocano quasi alle spalle, quando arriva la pallenare, e dopo puoi anche dire, è tutto a posto? Perché puoi parlare... Quello sarà stato fatto, immagino. Non credo proprio. Beh, il check, come su tutti i gol viene fatto un check, voglio dire, no? Bene, evidentemente erano al bar, come succede spesso. Come sai, come sai, hanno controllato solo il fuorigioco. I famosi... Che check hanno fatto, perché scusate... Sul fuorigioco di partenza di Frattesi si era buono, è tutto il fallo dietro non ha guardato. Io credo che venga valutata tutta l'azione, sia rivista tutta l'azione. Guarda, su questi qua, il problema è che la discussione è soggettiva, perché poi quando non si hanno le idee chiare ti dicono, sì ma è l'arbitro che stabilisce l'intensità della spinta del contratto, quindi... Quindi, se l'arbitro non ha fischiato, il VAR vede questo lavoro qui, non la valuta. Perché pensa, pensa, perché da regolamento l'arbitro, secondo loro, e mai come in questo caso, stava guardando molto bene l'azione, se ha valutato uno scappellotto ininfluente, il VAR... Guarda, purtroppo i dialoghi tra arbitro e VAR di questa partita li scopriremo soltanto settimana prossima. Purtroppo, perché, come sapete, passa da settimana prima che la televisione che ha i diritti possa presentare. E bisogna interpellarsi sull'utilità, Francesco, di rivelare gli audio una settimana dopo. Io poi, sinceramente... Ma c'è da dire che ogni tanto almeno il giudizio istantaneo, poi l'audio in sé verrà rivelato. Ma il giudizio istantaneo, se sia un errore o meno, ce lo diranno il modo in cui è arrivato. Non c'è bisogno di sbobinare l'audio, non c'è bisogno di nulla. Ma infatti... L'AI ha già deciso di sospendere, quindi l'ha visto tutto il mondo. Che si tratta di un errore penso sia palese. E quello che l'ha visto meglio, per spettatore non pagante in campo, è stato l'arbitro in tempo reale. Però, visto che il VAR è stato introdotto per essere strumento d'aiuto a un arbitro, quando ci sono episodi clamorosissimi, come quello di oggi, come quello di Genova, io mi chiedo che tipo di review vengono fatte. Non è clamorosissimo, lo diventa dopo per l'AIA. Ma al momento il VARista dà, perché noi continuiamo a parlare di protocollo, perché non esiste un regolamento preciso, c'è un protocollo. E il protocollo prevede che se l'arbitro stabilisce a suo insindacabile giudizio, che quello, come dicevo prima, che cos'è uno scaffo, una spinta, uno scappellotto... È un fallo. Non lo so che cos'è, per l'arbitro non è stato nulla. Vadovi sentire che Thomas, non ho ancora sentito Thomas sull'episodio, poi dopo andremo ad ascoltare anche Soliano. Il fallo c'è, però secondo me è stata ingrandita anche un po' la situazione di una gomitata, che non c'è una gomitata. C'è un fallo, perché quello è fallo, con una spinta, dopo che si parlava di tre giornate, espulsione e microespulsione. Quello è un fallo, fischi il fallo, ci sta, vai al VAR e puoi anche fischiare il fallo. Devo dire che Thomas è sempre stato molto onesto a questo punto di vista, per te c'era anche il fallo, se non sbaglio, di... Per me, secondo il mio punto di vista... ...di secche sul gol del Genova, mi pare di ricordare. Ma io ero qua, quando tutti festeggiavano il gol dell'Inter, io per primo ho detto che era fallo, perché con le due mani si era appoggiato sulla schiena del difensore del Genova. Thomas, la cosa è clamorosa... Se dobbiamo dire le cose, le dobbiamo vedere in maniera corretta. No, ma la cosa è clamorosa, e qui non è una questione di bandiere o fedi. Gli ultimi due gol decisivi dell'Inter sono viziati da due gravissimi errori nella revisione del VAR. La realtà è questa. Sì, sì, la realtà è questa, però... Sono due gol da annullare. Per me, dal mio punto di vista, e quello che ho visto io, per me c'è un fallo anche sul gol del Verona. Il primo gol del Verona, secondo me, è fallo su Arnautovic. Questo è il mio punto di vista. Su quello io l'ho rivisto... Sì, perché le cose vanno viste a 360 gradi. Perché se andiamo solo a vedere... Perché l'Inter è prima e dobbiamo andare ad attaccare l'Inter, quello è un altro discorso. No, io ti parlo per quello che sta spendendo fuori sui social e cose varie. Ma io vado ancora oltre. Luca parlava dell'arbitro. Bisogna essere obiettivi. Sul rigore del Verona, l'arbitro è a 4 metri frontale come posizione e non riesce a vedere quel tipo di palo che va a Darmian. Perfetto, però dopo è andato al VAR... Cioè, stiamo parlando... Secondo me qua c'è la differenza. Secondo me qua c'è la differenza. Che lì, e torno alle parole di Luca, l'arbitro ha giudicato anche quello di Darmian. Perché si vede, c'è un frangente che dice... Si continua a giocare. Ma ha fatto proseguire. E lì il VAR interviene. E cambia. Quindi, io non ci credo che sul pallo di bastoni non sia stato rivisto. Hai capito? Perché non è intervenuto. Cioè, sia stato rivisto e non è intervenuto. Io dove... Cioè, se non l'hanno proprio rivisto, perché se lo rivedono interviene. Dov'è che voglio arrivare? Per far capire che si sbaglia, però non è che perché è sempre l'Inter, l'Inter, l'Inter. Perché se no non deu rigore... Scusa però, Fiero, abbi pazienza. Se capitasse al Milan, alla Juve, come è successo, l'abbiamo evidenziato. Certo. Al Milan, alla Juve. No, no. Adesso sta capitando all'Inter, si dobbiamo stare zitti. Cosa vuol dire? No, non ho detto questo. Scusa, ma non c'entra niente sta roba che stai dicendo. Stai facendo il tifoso. No, ho detto solo che è un rigore al 90. Io capisco che sei un tifoso. Ma non sono un tifoso, sto vedendo le cose come sono. No, come non sei un tifoso, sei un tifoso. Sì, sono un tifoso, ma ti sto spiegando... Eh, allora, sei un tifoso e stai facendo il tifoso. No, sto dicendo. Io, siccome sto da questa parte e vedo le cose, quando ci sono stati degli episodi a favore della Juve, del Milan, della Roma, della Lazio, del Napoli, ho detto per quelle squadre... Certo. Oggi siamo qui a parlare dell'Inter, diciamo dell'Inter. Domenica scorsa era con l'Inter. E' ancora con l'Inter. Col Napoli contro l'Inter, secondo me, anche lì ci sono state delle situazioni, secondo me, e te lo dico perché sono pur amico di Mazzarri, e io ti assicuro che anche in quella partita ce n'è da dire. Sì, Massimo. Quando c'è da dire di una squadra, lo diciamo, quando c'è da dire di un'altra, lo si dice. Forse no, non hai capito cosa voglio dire io, Massimo. Eh no, tu hai detto ce l'abbiamo con l'Inter. Eh, ce l'abbiamo con l'Inter. No, ho detto che ce l'avete con l'Inter. Ho detto in generale, adesso, che se no non dà un rigore... Allora, non andava a vedere, non dava il rigore all'ultimo settore. Ma cosa vuol dire? Ma il rigore non c'entra niente. Scusami, il rigore poteva essere un rigore per la vittoria. Scusami, eh. Il rigore, se le cose vanno come devono andare, era un rigore eventualmente per la vittoria del Verona. Non per il pareggio. No, andava al pareggio. No, ti stai sbagliando. Poi l'Inter magari vince anche 3-1 senza il rigore, senza il gol annullato. No, l'Inter non è così, ragazzi. L'Inter vinceva 2-1, ha dato il centesimo, ha dato il rigore per il Verona. Ti sto dicendo... Ma sarebbe stato 1-1, Thomas. Se fosse stato 1-1, il Verona era nella sua ala difendersi. Ti sto dicendo che quel rigore, se annullano il gol dell'Inter, è un rigore che va per il vantaggio del Verona. Scusami, non è così? Però siccome il calcio non è fatto né di sé né di ma, perché ti sto dicendo che magari annullano il gol all'Inter e poi magari l'Inter ne fa 2 e vince 3-1. Non lo possiamo sapere. Però intanto quel gol andava a un lato e stavi 1-1. Massimo, quello che volevo dire, forse mi sono espresso male, che nonostante tutto, sul 2-1 dell'Inter, se non vuoi far pareggiare il Verona o vuoi che l'Inter vinca... Ma non è questo! Ma non è questo, ragazzi. Però scusate, se avete fatto calcio, voi dovreste sapere bene le cose. Come sono gli arbitri, che sono anche scarsi, oltretutto. Perché questi sono errori che non succedevano neanche negli anni Ottanta. Questi sono errori che gli Agnolin, i Casarini, i Lobello, i Michelotti non facevano, non facevano e non avevano il VAR. E questi non avevano il VAR. Perché io una gomitata, come tu dici che è una spinta, per me è una gomitata quella. Per me è una gomitata. Quella gomitata, quella gomitata, negli anni Ottanta la vedevano, te lo dico io, la vedevano perché erano in tre, erano in tre, non in venticinque con le telecamere, ma la vedevano, ti beccavano. Ragazzi, separiamoci due minuti, diamo la linea alla regia. Il tema del giorno è ovviamente Interverona, il tema del giorno è il clamoroso sfogo di Sogliano, che si è presentato al posto del suo allenatore in sala stampa e ovviamente non ha trattenuto tutta la rabbia del Verona per l'episodio del quale stiamo parlando e del quale sicuramente parleremo anche nei prossimi giorni, ovvero questo gesto, questa sbracciata, gomitata, poi si può definire in mille modi diversi, di bastoni su duda, cosa che a dire del Verona doveva far interrompere il gioco, quantomeno avrebbe dovuto portare poi all'annullamento del gol vittoria poi dell'Inter firmato da Frattesi. Allora andiamo ad ascoltare, è corposo, è abbastanza lungo, sono un paio di minuti quelli di Sogliano, ma assolutamente meritano di essere ascoltati e commentati. Io non sono un moralista, non mi piace, non devo neanche venire qui e prendere scuse perché penso che tutti gli anni il Verona viene e perde a San Siro con l'Inter. L'Inter è una grande squadra, io gli auguro di vincere il campionato, lo vinceranno, hanno tutto per vincere il campionato, però oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti nostri. È assurdo quello che è successo oggi perché se noi vogliamo parlare di VAR non è concepibile non intervenire e annullare il gol per questo episodio evidente di gomitata a palla lontana dentro l'area di rigore di un nostro giocatore, è una cosa, secondo me, a me dispiace che forse a voi non me ne frega niente, che magari siete anche tifosi interisti, fate il vostro lavoro, io non voglio venire qua a fare il piagnisteo perché se venivamo qua, prendevamo tre gol, tornavamo a casa e pensavamo alla prossima partita, però questa è una mancanza di rispetto, questa è una mancanza di rispetto, perché un gol che non viene annullato in questo modo è solamente una mancanza di rispetto, non è un errore, non è un errore perché gli errori io li accetto, giustamente, questo non è un errore, questa è una mancanza di rispetto per una città, per dei tifosi e per noi che ci facciamo un mazzo così dal mattino alla sera. Non è che io vado a parare con l'arbitro, se dalla VAR non chiamano l'arbitro e non gli dicono guarda che gli ha dato una gomitata a palla lontana e devi, secondo me anche a espellere, ma se no a munire e annullare il gol perché è palesemente irregolare. Ma se non parliamo di questo vuol dire che il calcio, facciamo finta che la VAR va bene così oppure andiamo avanti così perché tanto va bene che l'Inter vinca lo scudetto perché è una squadra forte e va bene che il Verona venga a San Siro a perdere la partita. Se a voi va bene così, io vi rispetto, ma non è quello che vorrei io da un calcio vero, poi dopo è inutile che ci scandalizziamo se parliamo della Superlega, di queste cose qua. Io sono veramente, forse è meglio che la finisco qua perché posso anche dire che sono veramente deluso da questo sistema, da due professionisti che io rispetto ma che è impossibile che non abbiano avuto la lucidità e la chiarezza di intervenire, chiamare l'arbitro e annullare gol. Poi abbiamo sbagliato il rigore probabilmente la partita qualcuno pienato del VAR ha deciso di andare così tutto quello che volete ma qua non è un errore qua è una mancanza di rispetto. E su quest'ultima frase è sottolineatura con la matita rossa nel frattempo è passato in vantaggio il Sassuolo con Pinamonti Sassuolo 1-1 Fiorentina 0 dopo 12 minuti di gioco il vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti credo, eccolo qui il nostro cartello che ci riporta alla cronaca con la Fiorentina momentaneamente ferma ancora a quota 33 Sassuolo che guadagna parzialmente 3 punti credo che soprattutto al di là di tutto questo discorso Luca l'ultima frase qualcuno sopra il VAR aveva deciso che la partita doveva finire così è una frase pesantissima questa Queste uscite mi dispiace dei dirigenti sono sempre intempestive e lasciano il tempo che trovano perché se esiste un problema del sistema lasciamo perdere il regolamento gli arbitri che è un ma se c'è addirittura qualcuno che decide beh i slab dovrebbero c'è una Lega si chiama Lega dovrebbero mettersi al tavolo se c'è qualcuno che bara a questo tavolo non ci può stare questo vale da 50 anni e 40 anni ci sono i poteri forti ci sono quelli che condizionano evidentemente questo sistema o va bene a tutti o non va bene a nessuno questo è sempre stato così quindi non si può esplodere solo di fronte a un torto della tua squadra e per il mondo arbitrale vale la stessa cosa cioè se non è possibile che noi siamo il primo paese che ha introdotto il VAR che l'ha utilizzato non ha mai interrotto in Germania quando fu introdotto il VAR poi fu sospeso per un mese e mezzo si mise la tavolina per creare un regolamento non un protocollo perché i protocolli in Italia sono come gli aeroplanini della scuola il regolamento è un regolamento quindi si va al VAR quando ci sono dei casi specifici e non quando l'arbitro deve decidere o il varista peggio ancora se l'intensità della spinta se è una manata se è uno sputo se è un calcio se è una gomitata no se è un fallo e se pregiudica la correttezza di un gol quindi gli sfoghi postumi dopo che ti hanno rubato un gol perché all'Inter stasera non c'è nessuno che dice no così il VAR non va perché in effetti quel gol andava annullato non ci sarebbe stato al Verona se l'avessero dato al Verona o al Milano o al Napoli o alla Juventus Zangrillo esplode per il fallo di Mignon perché si sente depauperato ma la volta dopo quando il favore tocca al Genoa scappa via e si lamentano quegli altri questo è il mondo del calcio italiano all'estero io continuo a ripeterlo sempre tanto è ripetitivo anche il tema con tutte le partite che seguo durante il weekend dei campionati stranieri cose come queste non le vedo mai non esiste un caso sì ce n'è magari uno ogni tanto però qui ce ne sono quattro alla settimana tutte le settimane però allora io poi però arriva la Champions League o l'Europa League e l'Europa e tutto cambia gli arbitraggi gli atteggiamenti dei giocatori l'atteggiamento dell'arbitro in Europa io Luca concordo perché da noi continua a essere no ma infatti il problema dell'applicazione ricordo per esempio in Paris Saint Germain Newcastle il rigore clamorosamente se vogliamo essere corretti ed etici cioè onestamente il presidente della Federcalcio che va la domenica in tribuna con i dirigenti a vedere la partita non so neanche se stia la sua scuola nel cuore o gli dirigenti della scuola che va a Lissone a vedere lui l'unico del Valle queste cose qui in un paese come questo non funzionano perché poi come diceva Massimo come dice lui poi viene fuori la parte del tifo io sono certo certo ma lo sappiamo tutti anche noi che se a episodio invertito gli interisti sarebbero imbufaliti sarebbero imbufaliti e quella diventerebbe un pugno non una gomitata o uno schiaffetto perché questo è normale umano che sia così però non è giusto no no vabbè a parte a parte quello che ha detto Sean che io naturalmente condivido ma conosco il personaggio conosco Sean da tanti anni perché è stato un mio compagno di squadra quindi io ho 58 anni quindi ci ho giocato insieme 30 anni fa poi ho avuto la fortuna di averlo come assistito perché poi ho fatto il procuratore lui per gli altri 5-6 anni ho assistito lui come giocatore è un è un sanguigno oggi si è sentito anche diciamo così nella nella condizione perché la partita diciamo così era era quasi alla fine e poi è successo di tutto ma la cosa che volevo agganciarmi su quello che diceva Luca adesso però non capisco nemmeno i tesserati e qui mi dispiace dirlo faccio riferimento a Enzaghi che oggi riesce a dire anch'io capisco Sean Sogliano perché anch'io ho perso partite così quel così che cosa racchiudeva vorrei capirlo cosa voleva dire così partite così come come le hai perse aspetta è un'altra cosa scusami finisco finisco Luca finisco un'altra cosa hai fatto una domanda quando succede a te sbraiti quando succede a quegli altri rispondi come stiamo ma un'altra cosa ma un'altra cosa perché andare a commentare il rigore del Verona dicendo che c'era quando sappiamo tutti che se il rigore fosse stato segnato non avresti mai detto che il rigore c'era perché la verità è anche quella io ti dico la verità in tutto questo mi spiace dirlo perché l'ho stracriticato dal punto di vista tecnico ma Allegri quello che deve dire glielo va a dire come si dovrebbe fare glielo va a dire in faccia all'arbitro nello stanzino poi quando esce nella conferenza stampa dice sempre qualsiasi decisione sia presa pro o contro riesce sempre a starne fuori dire sempre l'arbitro ha fatto la sua partita una partita difficile e sta sempre fuori da quelli che sono contesti secondo me dove giustamente come dice Luca quando tu sei pro eviti quando sei contro allora ci vai dentro pesante questa è la verità separiamoci due minuti poi riparto da voi da Manuele da Franco ovviamente da Thomas non è brutto dire separiamoci stiamo insieme stiamo insieme ci prendiamo un piccolo break eccoci qui Diretta Studios siamo rientrati per continuare a commentare le parole forti di Sogliano di S del Verona che insomma è stato protagonista di uno sfogo piuttosto importante dopo la gara riparto da Manuele Franco Thomas io sono d'accordo con Max per quello che riguarda Inzaghi ovvero che poteva tranquillamente girare la risposta in un'altra maniera però trovo anche è vero che il momento è concitato e tutto però quando fai delle accuse così importanti devi portare delle prove se no non puoi sei un tesserato comunque hai accettato le regole dall'inizio dell'anno non puoi dire qualcuno più in altro del VAR voleva che finisse così chi? perché? provamelo se no cosa lo stai dicendo a fare? cosa stai insinuando? cosa vuoi far capire? arrivo Max che c'è un sistema dietro che sistema? no no beh certo è quello era tutto per me era tutto onesto la pesantezza della frase la che abbiamo usato tutto onesto mancanza di rispetto verso una città perché è giusto perché quello che è venuto fuori nella testa dei tifosi è lì l'Inter viene agevolata perché è la più forte di vincere il Verone la squadra alta che è venuta a Stasiro doveva perdere 3-0 ha perso così comunque ha perso e su quello siamo tutti d'accordo tutte le squadre meritano lo stesso trattamento lo stesso rispetto da parte degli arbitri gli arbitri sono scarsi l'abbiamo detto ripetiamo continueremo a ripeterlo l'uso che si fa del VAR in Italia per me già solo quella parola protocollo quando verrà eliminata forse faremo un passo avanti è l'applicazione sbagliata ci sono troppe sottonorme di questo protocollo però ti devi fermare lì perché se vai oltre e insinui qualcosa allora cadi in un qualcosa che è anche regolamentato io mi aspetto che succeda qualcosa per Soliano sicuramente il giudice sportivo sarà materia per il giudice sportivo perché comunque è attirato un sasso molto molto pesante nello stradio è un malvezzo italico come dire è anche il rischio di quando un quarto d'ora 20 minuti mezz'ora dopo la partita ti presenti in sala stampa io però questo concetto di rischio non l'ho certo l'aveva capito è meglio che mi fermi qui poi però non è riuscito a fermarsi lì puntando lì questa frase che rappresenta la coda dell'iceberg la coda velenosa però dice una cosa molto pesante qualcuno sopra il VAR ha deciso che la partita doveva andare così e secondo me da parte di un tesserato è una cosa da non dire però scusa spero che Sogliano sia credente che qualcuno sia qualcuno al di sopra di tutti non credo che il riferimento suo fosse proviamo a girarla così però ragazzi il cuore del discorso di Sogliano è un altro c'è il rispetto e c'è una mancanza di rispetto ma soprattutto ma su quello ho pienamente ragione sono errori inaccettabili con l'introduzione della tecnologia ma ripeto su quello ho pienamente ragione pienamente ragione il cuore del discorso è questo perché noi continuiamo a vedere delle cose che sono totalmente impossibili da non notare da non chiedere il problema è che nel momento in cui dice quella frase il discorso trascende dal meritare rispetto e lo sposti su un'altra cosa Emanuele concordo con te e secondo me l'ho premesso è una cosa da evitare un tesserato secondo me non deve trascendere a caldo però certe cose vanno evitate perché se uno crede in un sistema corrotto con delle crepe allora il calcio va chiuso l'altro ieri la verità è che Sogliano va davanti ai taccini ai microfoni e si sente completamente defraudato perché quello che è successo oggi ci spiegano con le telecamere il VAR è stato introdotto per questo era stato introdotto per evitare qualsiasi tipo di dubbio e di dissidio qui vediamo delle cose che sono totalmente inaccettabili più che altro la cosa che continuo a non capire è un tema che purtroppo ci riportiamo ogni volta in trasmissione indipendentemente dalle squadre coinvolte faccio questo discorso proprio to cure cioè noi siamo qua che guardiamo la partita e spesso e volentieri questa come altre ma non che siamo dei fenomeni noi la vediamo al volo ma vediamo un replay diciamo ma questo è fallo cioè mi viene in mente Malinoski sul giocatore della Juventus su Il Diz il rigore non dato Genova contro la Juventus con il varista che dice giusto 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 fallo è giallo fallo è giallo quando vedi una gamba con i tacchetti piantati sulla tibia di un giocatore che se va male gli spacchi tutto esatto e senti un dialogo che ti dice giusto fallo è giallo fallo è giallo ma come falle giallo per dirne una e questa è la follia oppure vedi penso alla spinta di Bisse che di settimana scorsa due mani sulle spalle e soprattutto non lo chiamano cioè soprattutto ci manca quel pezzo lì il famoso discorso del protocollo di Emanuele cioè secondo me se lo chiami al VAR vattela a vedere sta cosa vattela a vedere allora la realtà qual è che una volta c'erano gli arbitri con i due guardialine e potevano abbiamo sempre detto errore umano puoi non vedere certe cose con 25 telecamere non puoi non vederle e questa è la cosa inaccettabile e questa è la cosa che fa inviperire i tifosi e siamo qui a parlarne e questa è la realtà sto dicendo valla a vedere no loro l'hanno vista non danno la sentenza valla a vedere cioè chiama l'arbitro e fallo andare a vedere ma il VAR lo vedono fallo andare a vedere perché se no addirittura sul fai di Marinovski su Ilditz l'arbitro lo fa proseguire l'arbitro è lì che aspetta la chiamata loro quindi vuol dire che loro hanno dato già un giudizio e secondo loro è tutto regolare ma questa è una cosa ulteriormente grave Thomas è una cosa gravissima se non riescono a dirire come ripeto si vede chiaramente che l'arbitro continua a guardare dopo il fallo di bastoni anche il giocatore a terra quindi ha una visuale che dura almeno 8-9 secondi e quindi il VAR dice quindi la valutata veniale veniale la spenta quindi questo si va a volte controllo non fuori gioco non c'è fuori gioco ma tu dici la valutata così esatto secondo me non c'è una alternativa lui non soltanto ha la visuale libera e vede perfettamente quello che succede tra bastoni e il giocatore dopodiché la palla si allontana e l'azione prosegue alle spalle dell'arbitro lui non lo vede che doveva il pallone sta continuando a guardare il giocatore del Verona per terra di conseguenza il VAR come equazione dice se non ha fiscato e non ci chiede nulla tesoro mio ma ecco qui ha valutato quindi non interviene oggi guarda allora se noi parliamo di regolamento e una volta per tutte affosseremo e seppelliremo il protocollo ci adegueremo a quello che gli altri campionati arrivati dopo hanno fatto meglio e sono davanti a noi in questo momento se parliamo di etica quindi di correttezza di qualcuno che decide o peggio ancora di rispetto il mondo del calcio non è etico perché i primi a mancare di rispetto nei confronti degli avversari dell'arbitro del pubblico del calcio sono i giocatori io non sto vedendo Sassuolo o Fiorentina 29 minuti avrò visto almeno almeno 8 giocatori in previsione di amputazione di un arto per delle urla che hanno squarciato il cielo piovoso di Reggio Emilia dopo un secondo si alzano e vanno via non vorrei citare immobili agli europei tanto per dirne uno ma ne citiamo tutti in tutte le squadre abbiamo giocato tutti però ci siamo fatti più male dei professionisti perché non eravamo capaci io non mi ricordo a memoria un mio compagno che stesse in campo urlando tanto più si faceva male tanto più stava zitto perché soffriva battendo la mano per terra da qui a ingannare sulla rimessa laterale l'ho toccata lui l'ho deviata eccetera è un attimo la partita inizia pronti via dopo 20 secondi c'è già la rissa sulla prima rimessa laterale punto a capo quindi al di là di tutti i discorsi moralisti eccetera se il sistema va così è perché qualcuno vuole che vada così chi è questo qualcuno? tutti tutti perché sugliano zangrillo simone inzaghi tutti perché non vanno in lega lunedì a discutere a maggio giugno però quando è finito il campionato adesso ci sediamo e una volta per tutte stabiliamo che cosa fare perché quella roba lì non si può più vedere ma c'è la volontà di farlo Luca no perché perché va bene perché è un alibi perché serve a tutti va molto bene così va benissimo Massimo riparto da te su queste osservazioni di Luca e poi diamo e specifichiamo anche che appunto notizia credo ufficiosa non ancora ufficiale ma sia Fabri che il Varnasca sarebbero andrebbero verso una sospensione chiamiamola così un periodo di fermo allora eccoci qui di nuovo insieme ero in debito con Massimo stavi intervenendo poi ti ho interrotto per la pubblicità Massimo no no io dicevo che su quello che diceva Luca sul fatto che i giocatori stramazzano al solo ma è sempre successo la verità è che qui si sottolinea ancora quanto sono scarsi gli arbitri perché io un sacco di volte mi è capitato in carriera perché la mia carriera era basata sul contrasto fisico non avevo piedi e quindi io tra gioco aereo e contrasto fisico anticipo botte era solo quello il mio gioco quindi sapevo e capivo anche quando si faceva male la punta anche se stramazzava per terra e gridava ma lo capiva anche l'arbitro perché l'arbitro tante volte è venuto anche da me perché io a volte mi buttavo anche da me veniva alzati che non ti sei fatto niente quindi vuol dire che se un giocatore trae in inganno l'arbitro vuol dire che l'arbitro detto per inciso come giustamente hai sottolineato che c'è la slealtà da parte del giocatore che però la slealtà ha sempre serpeggiato un po' in questo sport c'è chi magari ne ha di più c'è chi ne ha di meno non era così smaccata dai quelli che prenderanno le botte buon insieme ma anche per regolamento tu sai benissimo che una volta per essere ammonito o per fischiare fallo veramente lo dovevi ammazzare l'attaccante oggi appena soffi e cadono per terra io non potrei mai più giocare in questo calcio però secondo me in questo calcio le punte di allora finivano con 50 gol all'altivo con le regole di adesso perché con le regole di allora i vari Van Basten Maradona Platini eccetera eccetera dovevano passare sopra di noi che avevamo le possibilità che oggi il difensore non ha di fermare l'attaccante tra l'altro Massimo c'è un tuo amico io poi non posso scusa io poi non posso scusa finisco io poi non posso parlare perché purtroppo sono ancora tesserato dico purtroppo perché non mi fa piacere essere tesserato per questa federazione e infatti presto mi cancellerò e quindi non posso ancora parlare però mi hanno detto e me l'ha detto un tesserato naturalmente io non posso dire che sicuramente c'è qualcosa che non va dall'alto questo io lo dico lo butto lì visto che l'ha buttata lì Sogliano la butto lì anch'io ma io sono tesserato pure io purtroppo perché faccio parte faccio parte dei direttori sportivi avendo preso il patentino nel 2013 ce ne eravamo accorti dopo il covid dopo molte altre sentenze molte altre situazioni che c'è qualcosa che non va in generale ma a maggior ragione purtroppo bisogna prendere atto che se i reggenti continuano a essere quelli è evidente che il sistema che sta alla base quelli vuole non c'è niente da fare perché se tu vuoi destituire un sistema che non funziona i presidenti sono anche proprietari fra l'altro abbiamo molte proprietà straniere che potrebbero debellarlo dalla sera alla mattina un sistema in questa maniera però se si va avanti a sussurrare a dire a protestare quando invece si subiscono i torti non è così io ho ragione Massimo vediamo calcio da 60 anni miliardi di partite insomma c'era dei contrasti durissimi avete sentito Mazzarri oggi perché ti dicevo Massimo che sul discorso del calcio di una volta oggi ha fatto un riferimento proprio è stato mio compagno di squadra anche lui esatto il tuo amico ed ex compagno stavo per dire di squadra Walter Mazzari poi quando parliamo del Napoli ve lo faccio ascoltare perché c'è un passaggio in cui lui invece sottolinea come proprio per il cambiamento di regole si auspicherebbe un trattamento diverso nei confronti soprattutto dei grandi campioni però poi sarà un tema che andremo a dibattere ovviamente nel corso della giornata ma tu senza andare a te era una questione sua cioè proviamo dei giocatori tipo il nostro amato Bellugi o Francesco Morini o Paolo Maldini o Vierko come entravano sull'avversario Claudio Gentile si gentile esatto cioè in quella partita con Maradona Italia-Argentina esatto dopo 4 minuti però Maradona in quella partita cade 80 volte fa qualche smorfia ma non lancia urla quello intendevo dire io forse dopo la settantesima non grida si si vede la smorfia c'è qualcuno si alza piuttosto ti incavolavi prendevi la botta col mare dice oh ma che sport stai facendo ma non stavi in attesa dell'amputazione no poi ci sono insomma alcuni giocatori che no purtroppo guarda che questo c'erano anche all'epoca i simulatori oggi oggi sono tutti oggi oramai era un fenomeno che come al solito è nato qua quando arrivano gli stranieri si adeguano subito ma purtroppo oggi obiettivamente ha preso piede anche negli altri campionati perché anche in Inghilterra in Francia in Spagna in Germania vedo i tedeschi però Luca l'applicazione di quel tipo di sistema tecnologico è un'applicazione in Italia diversa dagli altri campionati la realtà è questa è soggettiva è discrezionale è discrezionale quando vedi poi in Europa che l'applicazione del VAR è completamente antipodica è diversa è opposta e questo è il vero problema perché diventa difficile poi spiegare ai tifosi come una VAR review certe volte dura un minuto altre volte tre altre volte cinque perché devi andare a vedere tutto vallo a spiegare a un tifoso del Verona oggi questo tipo di episodio quando hai dalla tua parte il mezzo tecnologico Thomas concludo ognuno poi vede le cose come vede però la sbracciata la gomitata i bastoni è fallo non ti ho detto mica che non è fallo per l'amor di Dio immagini chiaro è fallo sarei un matto il calcio che dice che quella roba lì non è fallo secondo me la cosa clamorosa è che siamo qui a dibatterne però il VAR oggi non è intervenuto non è intervenuto anche sulle simulazioni ma perché Massimo secondo me ha gettato un sasso nello stagno mica male perché potremmo anche andare sulla giustizia sportiva finché i club non decidono all'italiana che oggi tocca qualcun altro io me ne frego questo è un sistema che purtroppo va in questa direzione continuiamo da qui ripariamo tra due minuti come detto allora queste sono delle voci che arrivano dai vertici dell'AIA Fabri e il VAR nasca verso la sospensione ovviamente in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del designatore Rocchi mentre come detto ci vorrà una settimana per ascoltare il dialogo tra l'arbitro e il VAR per capire se è stato visto se è stato rivisto anzi l'episodio e poi soprattutto che cosa si sono detti perché se c'è stato un dialogo c'è stata una comunicazione sarà interessante capire che cosa si sono detti se l'errore è del VAR perché l'arbitro in campo può non aver visto quel contatto se l'ha visto giudicato in una maniera sbagliata ma se poi è il VAR che non l'ha richiamato a rivedere quell'azione perché dovrebbe essere fermato l'arbitro beh perché scusa te lo dico io perché dimmi perché quella roba lì perché quella roba lì non devi aspettare il VAR abbi pazienza scusami eh però puoi essertelo è una situazione di calcio d'angolo io ti ribadisco il concetto scusami no ti ribadisco il concetto un arbitro di serie A una cosa del genere così marchiana che la vedono tutti che l'han vista tutti che la può vedere anche il guardialine eh sono d'accordo anche il guardialine può averlo visto ok e allora e allora e allora fatti una domanda come mai fatti una domanda come mai la spinta di Bissec che dà al giocatore del Genoa non la vede nessuno è una cosa che insegnano al Nag quella di non poter mettere le mani sulla schiena non di spingere ma che fossero due falli siamo d'accordo tutti quanti o quando sei dietro un avversario tu non puoi appoggiare le mani sulla schiena quello addirittura lo spinge ma che siano due falli siamo d'accordo tutti quanti non sto mettendo in dubbio che siano due falli e come mai e dimmelo tu come mai e io sto dicendo che se dimmelo tu come mai c'è un VAR c'è lo strumento del VAR sono tutti scarsi sono tutti scarsi si vede può essere che siano tutti scarsi ce ne sono tanti che sono scarsi secondo me pochi in questo momento saranno tutti scarsi pochi meritano il livello però se vai a vedere il campionato se vai a vedere tutto il campionato tu stai dicendo in questo momento che c'è qualcosa che sta spingendo non so stai dicendo che stanno spingendo l'Inter io non sto lo stai dicendo tu no no sto chiedendo tu stai dicendo che dall'alto c'è qualcosa che non va hai detto beh allora io non vado troppo lontano qui abbiamo un fior di giornalista che è il signor Luca Serafini io vedo io vedo una una testata di un giornale che tira completamente da una parte e non mette mai in risalto niente di questo e tutte le altre testate dei giornali non parlo di editore non parlo di editore perché lo stesso editore di due giornali diversi ha un'impronta eh diversa su quello che succede ma c'è un'attestata di giornale che rema tutta da una parte ragazzi quando io dico che i dirigenti eh io quando dico che i dirigenti sono bravi politicamente 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 non significa che parlano coi politici eh a parte quello eh che sono bravi a muoversi ci sono dirigenti che sono molto capaci e bravi a muoversi è ok ho capito dove vuoi arrivare non stiamo non stiamo però sul concetto dell'azione dell'arbitro Pabri e del VAR Nasca se l'arbitro l'arbitro può non averla vista con l'azione è una situazione di calcio ma io ti faccio una domanda ma io ti faccio una domanda però ma Nasca era lo stesso che ha annullato un gol a Ken della Juve per una gomitata ok per quella famosa sbracciata gomitata Juve Verona 4 minuti e mezzo 4 minuti e mezzo a guardarsi quell'azione ma com'è possibile che lo stesso Nasca non va a vedere visto che tu dici se non c'è arrivato l'arbitro come mai anche lì Nasca Nasca va a vedere 4 minuti e mezzo una cosa e invece lì non è anche la guarda io sono convinto che l'errore lì sia stato proprio di Nasca che non l'abbia rivista proprio con l'azione perché se l'ha rivista tutta l'azione non può non averla fermata ma è anche un errore dell'arbitro che non l'ha vista live però di questi episodi che si perdono perché adesso c'è stato un gol però di questi episodi che si perdono nelle aree di rigore durante i calci d'anno quanti ce ne sono a partita e per un episodio del genere vengono fermati no solo perché c'è stato un gol e il gol perché è stato convalidato per l'errore del bar ma come fa non vederlo Fabri ma come fa non vederlo Fabri che è lì ce ne sono tanti altri e guarda ce l'ha descritta ce l'ha descritta prima Luca Luca ci ha descritto benissimo l'azione l'ha guardato l'ha guardata l'azione l'ha guardato l'ha guardato che è caduto per terra e ha fatto proseguire però usami pazienza la risposta me la dovete dare voi resta che può aver giudicato male o bene quel contatto però di quegli episodi nel corso di una partita quanti ce ne sono perché deve essere fermato lui che ha giudicato male un episodio e non il tema per me è il bar il problema ragazzi l'arbitro può l'arbitro può l'arbitro può ma ne abbiamo parlato prima anche sul rigore lui in posizione frontale non la vede l'arbitro viene richiamato dal bar per il rigore del Verona viene richiamato ed espulso non ce ne sono tanti nelle partite grazie a Dio no non è così abbi pazienza se l'episodio veniva a centrocampo siamo sicuri che andavano a rivederlo sì andavano a rivederlo per me no ma guarda ce ne sono tanti è diceso tanti dipende il VAR richiamò l'arbitro per una gamba tesa di Tonari nel primo tempo Tonari già ammonito fu riammonito ed espulso era un altro protocollo sì ma è avvenuto poi scusate permettetemi un episodio a centrocampo un episodio che decide completamente un match secondo me hanno pesi diversi no e no se è fallo è fallo non può avere due pesi diversi in base alla zona del campo di cui succede così come sono convinto che il contatto di Darmian da rigore se fosse a metà campo non succedeva mai questo è un episodio che il VAR lo diceva Massimo infatti l'errore del VAR non è accettabile una review di un minuto altra review di tre non deve più fare il VAR per tutta la stagione questo è un errore gravissimo del VAR non capisco perché è grave anche l'errore dell'arbitro allo stesso livello l'errore dell'arbitro non so scusa Tramacere scusa Tramacere scusa Tramacere dimmi ma l'errore che fa Massa in Napoli-Inter non era Napoli-Inter Massa? dove lo vodka viene trattenuto dall'autaro Martino ok quello quello è un fallo a centrocampo sì allora come mai lì allora come mai lì trattiene il giocatore l'azione prosegue sempre perché c'è stato un gol ok e come mai non ha fermato come mai non è andato al VAR come mai lui ha guardato e poi si è girato dall'altra parte perché ha guardato come mai e ti faccio una domanda come mai infatti quell'episodio è stato rivisto ah è stato rivisto è stato rivisto è stato rivisto al VAR hanno fatto sentire gli audio tutti qua noi abbiamo detto che era fallo e lì non era fallo no 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 Massimo è stato rivisto è stato rivisto ci sono gli audio l'hanno fatti sentire eh sì infatti è stato rivisto come mai non è stato giudicato no perché lui dice che era errore del VAR il VAR a volte invece richiama richiama anche di falli a centrocampo però questo dice no non è fallo come mai non è fallo anche quello lì l'hanno rivisto non è stato giudicato sì Massimo però anche quello come fai a non giudicare fallo una trattenuta abbi pazienza scusami è quello che è successo Max non sono io l'arbitro è quello che hanno visto è quello che hanno visto però come fai a non giudicare una trattenuta un fallo quella trattenuta come fai a non giudicare fallo anche per me quello è un placaggio sto dicendo quello che è successo è un placaggio anche per me era un placaggio però quello che hanno fatto sentire dei dialoghi entrambi allora fatti una domanda e datti una risposta e che tipo di review facciano perché la realtà è questa qui non è la questione di porzione di campo può anche essere in alcuni casi ma ci sono delle review che durano un minuto e altre cinque bisognerebbe spiegare perché io sono convinto che il Varsia è così importante ma mi sentire anche Thomas che è un po' che non interviene volevo capire anche una cosa come diceva sono d'accordo con Massimo sulla cosa che sono scarsi gli arbitri per il semplice motivo che con la scusa che hanno il Vars perché lui secondo me quella gomitata la vede la vede la vede adesso aspetto aspetto che mi diano così la responsabilità da loro se ne sono accorti loro e io mi lavo le mani perché anche questo adesso ma se fosse andata così ho capito ho capito però la vista perché non la vista perché se noi non possiamo vedere le immagini se tu con calma stasera stanotte o mattina te le vai a vedere l'arbitro vede tutto bene e continua a seguire la cena se non interviene in tempo reale su una cosa così perché non c'è un regolamento c'è un protocollo aspetta non è intenso quindi il Vars non deve intervenire no allora è sbagliato questo però quella di Genova lo vedremo lo vedremo probabilmente l'ascolteremo domani sera l'arbitro ha deciso che l'intensità non è tale quindi ha fatto decidere però Luca in questa stessa partita si contraddicono le cose ha deciso l'arbitro basta Luca però in questa partita stessa si contraddicono le cose perché se ha visto è questo che voglio essere perché c'è un regolamento c'è un protocollo non c'è un regolamento però se ha visto il giudicato e quindi l'arbitro non interviene su bastoni perché su Darmian il rigore alla fine che ha visto il giudicato e invece interviene no questo è un errore questo è un errore questo è un errore trama questo è un errore ricordati ricordati che gli arbitri non possono fare se vogliono fare una partita in un certo modo farla completamente sporca attenzione perché io ho giocato contro squadre tra virgolette che avevano comunque un occhio di riguardo se concedi un rigore se concedi un rigore al 2-1 la stai facendo sporca la stai allora vuol dire che l'Inter è fortunata è un rigore dubbio quello ma se anche Inzaghi ha detto che c'era rigore Inzaghi l'hai detto anche tu perché l'ha detto per evitare di parlare dell'altro regolamento è rigore quello lì perché gli tocca al piede a regolamento dice quello se tocchi con la scampa io però sto dicendo un'altra cosa io direi che l'Inter ultimamente è fortunata diciamo questo parecchio possiamo dire così è fortunata diciamo che è fortunata però a prescindere dalle interpretazioni l'arbitro ha visto o non ha visto quella è la causa ma poi c'è l'effetto cioè l'effetto di una partita che non doveva finire con quel punteggio ed è questa secondo me la cosa più grave con la tecnologia io questo non mi stancherò mai di ripeterlo perché è stato introdotto il VAR per evitare questa tipologia di errori noi nel campionato italiano vediamo una pioggia di errori gravissimi e inaccettabili con la tecnologia e allora qualcuno prima o poi non so tra 10-20 anni la prossima settimana delle risposte esaurienti le dovrà fornire sì o no perché è l'unico dirigente che è andato a Sarono a Seregno lì dove c'è la centrale atomica Alissone Alissone a varcare quella soglia a visitare cose e ci dirà che cosa ha visto basterebbe anche Gagliani prima di Maroc ci sono stati dirigenti anche perché spesso e volentieri le riunioni della Lega di Serie A si sono tenute a Alissone qui in realtà tutti i presidenti e i grandi dirigenti della Serie A è stato cambiato in settimana voi vorrei sapere come male dovrebbe essere per lutto Max è stato cambiato in settimana eh così ci hanno detto vabbè però ragazzi non è che possiamo aspetti su tutto adesso sono tutti i dettagli che uno mette sul tappeto io su questo non mi soffermo come abbiamo detto come abbiamo detto Sogliano dice che qualcuno ha deciso dovrebbe dare le prove anche chi tra di voi dice queste cose c'è ma guarda che brambati gitto gitto ti ha buttato dei sassoli si lo so però Massimo sa che Massimo sa che noi diamo libertà di espressione a tutti nella nostra trasmissione poi ognuno di voi si prende la responsabilità di quello che dice come sempre come sempre non c'è potrebbe esserci un fattoccio oppure una sagoma cattolata sarebbe lo stesso però io parlavo scusa Leonetti io parlavo dei guardialine della mia epoca erano in tre c'era l'arbitro e c'erano due guardialine se non vedeva l'arbitro segnalava i guardialine adesso non è più così Massimo la mia era una scolineatura polemica ma non nei tuoi confronti rispetto al fatto che con il VAR i guardialine potrebbero rimanere a casa verso un caffè sarebbe la stessa cosa allora ragazzi prendiamoci due minuti vedete già il prossimo titolo perché tra i tanti temi di questo post partito assolutamente infuocato c'è anche un episodio che riguarda proprio il rigore sbagliato dal Verona poi sono successe cose che insomma a qualche giocatore del Verona non sono andate molto giù e che vedono protagonista protagonisti due giocatori dell'Ital ne parliamo tra noi in campo per l'inizio del secondo tempo tra Sassuolo e Fiorentina si riparte dall'1-0 per il Sassuolo con il gol decisivo per ora segnato da Pinamonti il nostro titolo vi racconta di Di Marco e Acerbi che sono finiti nella bufera perché cosa è successo al centesimo minuto addirittura il Verona va vattene il calcio di rigore che poteva essere il gol del due pari Henri lo sbaglia lo calcia sul palo e prima Di Marco soprattutto Di Marco e poi Bastoni e poi Acerbi hanno questo moto di esultanza davanti proprio alla faccia di chi il rigore lo ha sbagliato cioè di Henri Di Marco ha postato e poi l'ho cancellato sul proprio profilo Instagram dicendo ho esultato sì ho esultato e anche tanto senza insultare nessuno senza gesti maleducati ho giuito tanto per la vittoria per lo spavento e per il pericolo scampato lo sport è bello anche per questo purtroppo è anche severo e crudele nei confronti di chi sta dall'altra parte mi spiace se tutta questa gioia mi si esplose istintivamente davanti ad Henri che aveva appena sbagliato il rigore e io abbia esultato davanti a lui di pancia dice Di Marco sono sincero qualcuno dirà che non è una cosa bellissima e probabilmente ha ragione ma non volevo offendere nessuno tant'è vero che al fischio finale ancora prima di festeggiare con i miei compagni sono andato ad abbracciarlo vogliamo però dire che sono cose via di campo sì è una mancanza di rispetto però posso capire il giocatore mettiamoci nei panni di Di Marco magari non esulti in faccia all'avversario ma secondo me non si è neanche esultato che è l'arri questo sì si è girato è esultato mi sembra beniale è successo anche la Juventus con Gagliardini Di Marco ce l'ha un po' queste cose sono episodi a me in presa diretta è sembrato che fosse fatto proprio di fronte al giocatore è brutto sotto al mento io capisco che tre punti oggi per l'Inter sono fondamentali per un girone d'andata se hai in testa classiva è quello che vuoi però rispetto per il tuo avversario che sbaglia un calcio di rigore all'ultimo secondo e tu gli esulti davanti non è corretto secondo me puoi esultare non infaccia la vossa magari perché sei trovato davanti o perché la gioia perché hai vinto 2 a 1 quindi al centesimo sbagli il rigore quello è un altro discorso però poteva evitare si girava dall'altra parte e lo faceva sui tifosi poteva evitare ma lo dice lo stesso di Marco lo dice lo stesso di Marco non è stato un gesto bellissimo girati verso i tuoi tifosi è facile dirlo se tu fai apposta e vai ad insultare in faccia a uno che ha appena sbagliato il rigore hai fatto apposta no ho detto insultare esultare esultare non hai insultato nessuno hai insultato si girava verso la curva ha esultato sotto la faccia di Henry che stava sì come per dire brutto pistola sbagliato il rigore quello non sfottò ti giri verso i tifosi perché ce ne sono alcuni solo che si comportano così gli altri no e quindi sarebbe è lui che meno male che fa ammenda però aveva fatto ammenda l'altra volta dopo il derby mi parli di Champions adesso può cominciare a fare ammenda o a prendere le ammende anche se fanno il solletile però basta insomma le dichiarazioni peggiori erano state quelle di Gagliardini in quel Monza Juve che aveva risultato in faccia a Rabiot il raddoppio intanto del Sassuolo ragazzi il raddoppio del Sassuolo 2 a 0 tra Sassuolo e Fiorentina minuto 48 a segnare è Torsverd che segna il suo quarto gol in questo campionato su una azione che nasce da calcio d'angolo palla che resta nel cuore dell'area di rigore il più lesto ad arrivarci è proprio Torsverd che di destro infile il gol del 2 a 0 per il Sassuolo difficile adesso per la Fiorentina il raddoppio come giudichiamo la posizione di Matteo Senriche che è in fuorigioco davanti a tutti di fianco al portiere infatti vediamo vediamo se ci sarà un review da un minuto da 17 minuti per me non influisce mai come anche in passato in altri casi infatti c'è il check del possibile offside vediamo quella che sarà la decisione dipende naturalmente se tracciando una linea esattamente retta tra il punto di impatto e il portiere il giocatore si trova esattamente lungo la nel cono visivo non c'è più cono è proprio dritta deve essere una volta era il cono invece adesso è in corso dell'azione sul primo tiro l'impressione è che vediamo un po' no però il gioco è ancora fermo sul primo tiro c'è Matteo Senriche che è in fuorigioco e spinge il difensore della Fiorentina poi sulla ribattuta tiro di Torsverd lui non è in visione sul portiere e la palla entra però è due volte in fuorigioco sulle due azioni offensive del Sassuolo vediamo c'è un check in corso evidentemente per me annullare un gol del genere è meno facile da valutare però intanto nella Fiorentina si sta preparando Beltran perché 1-0 2-0 la Fiorentina deve comunque rimontare per cui ci sta che adesso check lungo sei contento? no check lungo sono contento ma in ogni caso Fiorentina male male molto male sta difendendo malissimo possiamo dire anche molto male il Sassuolo il Mapei Stadium che è deserto eh sì non c'è nessuno non è un grande colpo d'occhio c'è il diluvio universale però c'è un check che è piuttosto lungo lo va a rivedere ragazzi lo va a rivedere eccolo qua questi sono i check che io voglio vedere trama questi perché in questo caso è l'arbitro a dover giudicare se è attivo o meno e quanto incide eventualmente sulla capacità del portiere di intervenire la sensazione che se l'hanno richiamato al VAR evidentemente c'è qualcosa da guardare eccolo là eccolo lì è questo qua il primo occasione trattiene Mandragor sì ah ok la giocata secondo me e poi è ancora in fuorigioco vedi perché qua sul tiro adesso lo vediamo e allora vedi giudicano la posizione sul primo ho capito ma la tocca col tacco il giocatore della Fiorentina qua ragazzi però il giocatore della Fiorentina è girato a guardare lui questa è in fuorigioco vediamo qual è il suo calcio secondo me secondo me stanno guardando non il secondo tiro stanno guardando questo questo però non è davanti al portiere no 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 stanno guardando il fuorigioco il fuorigioco il fuorigioco perché diventa attivo nel momento in cui il giocatore della Fiorentina si preoccupa del giocatore alle sue spalle esatto perché poi sul tiro non è mai davanti al portiere ma stanno guardando qui però è offside ti dico di più qui offside per me è fuorigioco e danno il rigore per il contatto che c'è fra Ferrari e il 28 di chi è quello qua guarda qua boom giù per terra quindi ci sarebbero due due review nella stessa azione perché c'è da valutare sia perché qui oggettivamente sul tocco del giocatore della Sassona che io non riesco a individuare perché è coperto effettivamente c'è chi è Enrique davanti sì sì soprattutto copre il portiere sul calcio sì ma non è quello il discorso perché il portiere non interviene mai quindi non va in porta la direzione è quella quella che è la decisione fuorigioco fuorigioco è fuorigioco quindi gol annullato al Sassuolo viene dato il fuorigioco perché sul primo tocco il giocatore del Sassuolo è in posizione irregolare in quanto incide nell'azione ma che fallo che c'è lì sì sì poteva essere anche fallo oggettivamente evidentemente non viene visto il secondo fallo difensore della Fiorentina non vede mai il pallone devi calcolare la prima azione poi dopo quella viene successivamente ma tu devi calcolare la prima questo è vero questo è vero questa cosa che dice Thomas è incorretta cioè se c'è prima in ordine cronologico c'è prima il fuorigioco automaticamente tutto quello che succede dopo non incide più siamo d'accordo nel dire che era attiva la posizione del giocatore fuorigioco secondo me sì sì però io non l'avrei mai in un gol così certo comunque Mandragora va a contrastare il tiro di Ferrari nonostante avesse il giocatore in fuorigioco dietro la prende col tacco dietro non so quanto fosse attivo se la palla non va sul tacco del giocatore della Fiorentina a quel punto il giocatore del Sassuolo è attivo però è lì attivo lui è lì davanti però vedete il paradosso il paradosso di far siamo qui a discutere attivo per uno è attivo per un altro è attivo poi ci sono degli episodi macroscopici che sono chiarissimi e non vengono puniti non vengono visti qui le interpretazioni possono essere molteplici chiaro che se ci fosse un regolamento questa è da regolamento ragazzi questo è il regolamento che dice questo è davanti però quando gioca la palla abbiamo visto delle interpretazioni del VAR dell'uomo davanti alla porta con una gamma di colori che va dal blu scuro al bianco splendente quindi queste cose qui secondo me però poi ci sono episodi come Genova come quello di oggi Napoli ma non è per andare contro l'Inter un minimo farà discutere anche questo episodio ragazzi perché comunque sul primo tiro da capire quanto Matteo Senrique incida nell'intervento di Mandragora cioè quanto Mandragora è condizionato dalla presenza del giocatore alle sue spalle è condizionato perché cerca di tenerlo e lo sente quindi probabilmente se non ci fosse stato la postura magari di Mandragora sarebbe stata diversa non avrebbe assunto credo è la interpretazione è meno attivo secondo me è giusto annullarlo se fosse stato davvero così attivo Mandragora sulla palla non ci va però Mandragora si occupa del suo diretto avversario ma il tiro mica lo fa quello lì lo fa uno che si è perso quello di fianco va bene però ecco questo è discutibile possiamo stare qui fino a domani quello che è successo oggi e in altri campi no episodi di discussioni di lana capretta intanto quindi si resta sul 1-0 per il Sassuolo Fiorentina che ha fatto entrare anche Beltran per andare a dare un po' più di forza e di vigore al proprio attacco che in questa partita è stato un po' asfittico e fino a questo momento non un granché la Fiorentina che è sotto di un gol chiaramente sarebbe stato peggio andare sotto di due perché chiaramente la salita sarebbe stata e si sarebbe fatta ancora più ripida Massimo mi dici la tua sul discorso di Marco esultanza cosa ha da campo o secondo te una tiratina d'orecchia se la merita no è un atteggiamento antisportivo io ti porto un esempio di un grandissimo campione la domenica sportiva quella domenica fece veramente un servizio bellissimo dove io mostrai la maglietta che lui mi diede parlo di Ruth Gullit che in una partita non scontata perché è sull'1-0 del Milan con un grandissimo gol suo da 30 metri al volo nel 7 noi prendemmo un palo a 25 minuti dalla fine 20 minuti alla fine poi io entrai in spaccata per cercare di anticiparlo e feci autorete e lui mi venne ad abbracciare e mi disse sei stato sfortunato mi dispiace però hai fatto veramente una grandissima partita e queste parole sono secondo me l'esempio di un grandissimo campione che era un campione in campo ma poi secondo me è stato anche diciamo così come esempio e in quella circostanza a me fece molto piacere ricordo che Zuccalà mi venne a fare l'intervista per la domenica sportiva e io sottolineai quanto un giocatore diciamo così modesto come me fu rincuorato in quel momento da un grandissimo campione che peraltro non stava attraversando un grandissimo momento in quella fase della carriera invece poi si riprese e credo poi quell'anno il Milan se non sbaglio andò a vincere anche la Coppa dei Campioni che all'epoca era Coppa dei Campioni non era Champions League ci fu un altro episodio invece proprio un altro Torino-Milan che credo fosse in Coppa Italia in cui fece autorete Pasquale Bruno e rimase sdraiato per terra e Vambassa gli andò sopra in piedi e ballò una specie di lambada la ricordo e non la prese benissimo Bruno no no però era un duello rusticano molto cruento anche quello lì comunque anche nel calcio di oggi ci sono episodi come quelli raccontati da Massimo io ricordo Juve Napoli 4 a 3 con Chiellini che si era appena rotto il crociato la partita venne decisa da quel clamoroso autogol di Coulibaly che in linea fine partita Claudicante con le grucce andò in mezzo al campo a salutare Coulibaly a consolarlo quindi secondo me dipende poi dalla portata caratteriale del giocatore le conne di Maresca poi il 4 famoso di Totti si ricordo ricordo benissimo ma che gogliardata si può fare però io eviterei onestamente ragazzi prendiamoci due minuti diamo la linea alla regia a rientro parliamo di anche di campo ovviamente perché abbiamo parlato di cose di campo ma di cose di varra ma soprattutto cerchiamo di analizzare un po' la partita dell'Inter con Simone Inzaghi che torna sulle famose parole di Acerbi vi ricordate Acerbi dopo Genoa Inter cosa disse? ecco oggi Simone Inzaghi dà la sua spiegazione sulle parole pronunciate dal suo giocatore e qui si aprirà ovviamente tutto il dibattito tra Juventini e Interisti favorito tu non favorito io tu spendi tanto io spendo poco insomma altro tema particolarmente caldo tra poco l'Inter che è aritmeticamente campione d'inverno la statistica dice che 62 volte su 91 chi è stato campione d'inverno quindi due volte su tre lo è stato poi d'estate caro Thomas questi sono numeri e poi fai ognuno faccia i suoi debiti scongiuri ma per Simone Inzaghi è 100% no bravo con il Milan campione d'inverno vedremo quest'anno se sarà 50 le statistiche sono i numeri sono i numeri sono quelli però l'ultima volta l'Inter campione d'inverno ha perso il campionato contro il Milan ma ci sono anche le eccezioni certo ma è bello del calcio altrimenti che noia siccome con questo allenatore io non mi fido e non lo dico oggi e lo dico da anche quando ha fatto la finale che tutti hai visto che è arrivato in finale secondo me mi cabun e sono d'accordo con il mio amico a te non mi piace a me non piace non è mai piaciuto come allenatore a te non è mai piaciuto e ultimamente ultimamente quando arriva a gennaio l'Inter comincia a soffrire il calcio di rigore per la Fiorentina intanto con il fallo di mano secondo me non ci sono dubbi l'ha visto e lo ha sanzionato di Ferrari allora vediamo un po' questa inquadratura non si vede molto bene ma questa sicuramente vedremo un po' di più colpo di testa con braccio braccio è largo è vicinissimo colpo di testa però sono molto vicini e loro ci hanno spiegato che c'è la palla in attesa e come la mettiamo? che calcisticamente un difensore non può saltare con le braccia dietro la schiena è proprio una questione di fisica un difensore non può saltare con le braccia dietro la schiena qui il braccio è largo e queste sono le famose interpretazioni però sono vicinissimi sono veramente a mezzo metro perché c'è è vicinissimo è vicinissimo è veloce il colpo di testa però cerca di toglierlo cioè vai indietro ma secondo me non hai veramente la tempistica adeguata per togliere c'è cover e calcio di rigore confermato calcio di rigore confermato non ho capito se batte Beltrano o Buonaventura Buonaventura credo Buonaventura Beltrano è andato a lamentarsi per consigli che stava provocando Buonaventura allora 64 di gioco momento importante anche in chiave classifica Buonaventura contro Consigli calcio di rigore per la Fiorentina l'arbitro ha dato il rigore il VAR lo ha confermato ma sicuramente sarà motivo di Moviola anche questo concentriamoci però sul campo e sull'azione parte adesso Jack Buonaventura con il destro il tiro e la parata di consigli la parata di consigli rigore sbagliato da parte della Fiorentina Jack Buonaventura si fa ipnotizzare non un gran rigore attenzione occhio perché qui no credo c'è sempre il solito check perché il portiere deve avere almeno un piede sulla linea di porta da capire non stiamo vedendo replay adesso lo vediamo occhi e piedi di consigli mi sembra buono perché il piede destro ce l'ha quando spinge sulla linea di porta quindi credo tutto regolare va a intuire l'angolo non lo spiazza Buonaventura consigli va esattamente alla sua sinistra calciato male il calcio di rigore attenzione per la ripetizione perché quando colpisci ancora deve colpire il pallone i piedi sono già fuori dall'aria ecco da questo replay qualcosa si vede sono tutti e due lontani dalla linea lo fa ripetere lo fa ripetere ragazzi secondo me sicuro questo è quello che è successo nella partita delle 12 e 30 che si ripercuote in quelle dopo ma è così è questa la cosa no non lo fa ripetere ragazzi non lo fa ripetere però ecco allora veramente io chiedo a voi una riflessione perché poi io divento matto e ti fa capire che sono scarsi però lì c'è lì penso che ci sia il fermo immagine esatto di quando io me lo auguro Francesco perché dalle replay che abbiamo visto anche io ho avuto la sensazione che nel momento in cui stacca la cioè però noi il fermo immagine perfetto non l'abbiamo visto ma io mi auguro che sia per quello quella da gollante technology però la fermi sì io mi auguro Galissone abbiano fermato l'esatto momento perché noi non l'abbiamo visto però non ce l'hanno fatto vedere i replay che abbiamo visto è quando qua è arrivata la chiamata di Rocchi finito Inter Verona dicendo ragazzi questa settimana andate al VAR da adesso in poi andate al VAR anche per le cose minori controllate tutto perché non voglio un'altra cosa in questa settimana è così andata la traversa della Fiorentina il gol della Fiorentina questo sì che è buono questo sì che è buono Martínez Quarta Martínez Quarta trova il pareggio della Fiorentina che aveva appena sbagliato il calcio di rigore con Jack Bonaventura che succede? no ragazzi non ci posso credere no ragazzi ma cos'è? fumogeni in campo c'è qualcosa non ho capito cosa secondo me sono i giocatori del Sassuolo che protestano ma il gol è buono credo che l'arbitro abbia dato il gol i giocatori del Sassuolo protestano non ho capito perché stiamo veramente vedendo di tutti i colori negli ultimi minuti occhio al replay per capire se è tutto regolare sul tiro di Duncan c'è la deviazione sulla traversa fuori gioco di rientro fuori gioco fuori gioco di rientro esatto fuori gioco di rientro però la palla va sulla traversa bisogna capire questo adesso perché la palla va sulla traversa però lui è attivo lui è attivo ed è lui che segna anche il gol per me è fuori gioco altro lavoro per il VAR altro lavoro per il VAR ne sono successe veramente di tutti i colori ragazzi il calcio di rigore ha segnato la Fiorentina il rigore sbagliato da Bonaventura è il check per il possibile movimento anticipato di consigli che non è stato giudicato tale e praticamente sul prosieguo dell'azione sulla rimessa laterale che ne è conseguita la Fiorentina pareggia con Martinez Quarta occhi a replay quando calcia Duncan l'ultimo in basso è Martinez Quarta che è fuori gioco fuori gioco di rientro poi interviene una prima volta non trova il pallone interviene si arriva tutto fa gol lui aspetta però c'è fuori gioco secondo me anche di Nzolà davanti a consigli è fuori gioco è fuori gioco e lo va a rivedere non sta andando a rivedere non sta andando a rivedere fuori gioco è fuori gioco è fuori gioco gol annullato la Fiorentina cioè in 5 minuti è successo di tutto secondo me non era solo il fuori gioco di Martinez Quarta ma anche quello di Nzolà davanti a consigli nel momento in cui calcio a Martinez Quarta quindi abbiamo un gol annullato a testa il possibile 2-0 del Sassuolo il possibile 1-1 della Fiorentina in mezzo un calcio di rigore contestato assegnato tramite VAR e anche l'esecuzione del calcio di rigore è stata vista e rivista quindi in 10 minuti 4 episodi da VAR 4 episodi da VAR è praticamente tutto corretto onestamente si è stato tutto corretto come regolamento dice è giusto però la cosa che diceva lui poc'anzi è di una gravità pazzesca perché oggi succede quello che succede ovviamente i vertici arbitrali si attivano alzano il telefono allora in Italia dobbiamo sempre fare le solite cose ci deve essere il caso eclatante perché poi l'AIA alzi il telefono e dica oggi controllate tutto ma secondo me è un sistema serio ma è serio è una cosa del genere non abbiamo la prova che sia accaduto questo però potrebbe essere accaduto il rigore è stato parato potrebbe essere accaduto qui il rigore è stato parato quindi il controllo è sicuramente più minuzioso che quello di San Stiro no ma io sono contento della minuziosità poi addirittura dopo il rigore di Enri del Verona ci sono due interpretazioni io non so quale sia la disposizione temporale dei due comma che parlano della stessa cosa cioè del portiere che al momento del tiro ha i due piedi di là della linea uno dice sono estratti dal regolamento che il pallone sia che venga parato ci sia l'errore del tiratore o vada sul paro o vada fuori va ripetuto e un altro che dice se però la posizione del portiere influisce sull'errore che mi sembra una castroneria da De Luca mi sembra una castroneria dovrebbe darla a De Luca perché è chiaro che il tiratore è sempre condizionato dal portiere anche se non lo guarda no però penso che intendo dire se il portiere incide sul risultato del rigore cioè se prende il palo il portiere incide questa è la domanda possiamo discutere il mezzogno secondo me il portiere è solo il fatto che tu hai al discreto lo guardi si butta non si butta decidi dove tirare e io ho visto il rigore in realtà non guarda mai il portiere però non puoi cioè in una partita al novantasettesimo mandare un arbitro a vedere se l'attaccante sta guardando il regolamento deve essere uno chiaro e basta uniforme perché dopo attaccata è tutto soggettivo è tutto interpretabile ma certo ma secondo me con il VAR non dovresti avere possibilità di interpretare abbiamo detto per 60 anni qual è il problema degli arbitri e che non hanno uniformità di giudizio il VAR avrebbe dovuto uniformare i giudizi ci troviamo con una situazione opposta è abbastanza chiara come il rigore e l'esecuzione del calcio di rigore già qui abbiamo da discutere sulle possibili interpretazioni esattamente Francesco è il rigore sbagliato to cure vuol dire che il sistema non funziona non funziona se dobbiamo interpretare su un singolo episodio tre o quattro volte non funziona meno male abbiamo fatto un'ora e mezzo ma infatti andiamo ancora avanti a parlare perché poi non abbiamo parlato come detto delle cose di campo perché poi in Sassuolo Fiorentina veramente è successo qualcosa di incredibile mancano 20 minuti alla fine Sassuolo per ora avanti 1 a 0 però 4 episodi da VAR il giro di 10 minuti meglio così che come a San Siro assolutamente meglio che vengano controllate siccome ce l'abbiamo lo strumento usiamo meglio rivederle sette volte le cose piuttosto che non vede ma certo altrimenti che cosa ti serve la tecnologia io preferisco 10 minuti con 4 interventi del VAR almeno mi sento tutelato non le porcate viste 2 minuti 2 lì nella regia e poi parliamo come dice il nostro titolo del calo dell'Inter per domandarsi se è preoccupante o meno e poi come detto torniamo anche sulle famose parole di Acerbi l'altra parte del nostro titolo lo dice ma il calo un po' preoccupa perché oggettivamente tra Genoa e Verona l'Inter non sembra più quella squadra schiacciassassi vista settembre ottobre novembre un calo fisiologico dili che c'è stato di mezzo il panettone il pandoro lo champagne le pasta la pasta al fumo aggiungerei anche Coppa Italia anche con Lecce vabbè però iniziano ad essere 4 le partite ma è un calo fisiologico perché ci può stare è preoccupante preoccupante oggi c'è 5 punti la Juve c'è una partita in meno però voglio dire questo è proprio Simone Inzaghi dalla gestione di Simone Inzaghi che succede questo non è solo quest'anno è successo l'anno scorso ha perso 12 partite quindi a gennaio eravamo già cotti e bolliti e l'anno prima quando hai perso lo scudetto con il Milan arrivi in questa fase e incomincia la squadra a calare quindi bisogna capire come mai l'anno scorso si è ripreso la grande in primavera sì poi dopo però dopo eri dietro al Milan alla fine le hai vinte tutte insieme al Milan no no l'anno scorso dico sì l'anno scorso però al gennaio hai battuto mi sembra il 6 gennaio forse in casa 1-0 in Napoli se non erro e poi dopo hai pareggiato a Monza 2-2 mi sembra e poi da lì c'è stata la disfatta non hai vinto più una partita e poi ti sei ripreso in primavera ma da marzo in poi quindi questa mi preoccupa perché adesso abbiamo delle partite importanti soprattutto in Coppa che andiamo lì in Arabia dove andiamo e diamo un'occhiata al calendario dell'Inter perché effettivamente è un calendario decisamente fitto di impegni tenete conto che è vero che l'Inter giocherà una partita in meno della Juventus ma ne avrà una forse due se supererà ovviamente la Lazio nella semifinale anche se supererà la Lazio in semifinale avrà anche eventualmente la finale di Supercoppa quindi settimana prossima a Monza Monza che oggi tra l'altro ha vinto bene 3-2 in casa del Frosinone un Monza che si è ben ripreso e poi appunto ci sarà il break non si giocherà la partita tra Inter e Atalanta perché l'Inter va in Arabia Inter-Lazio eventualmente Inter contro la vincente di Napoli-Fiorentina nel caso sarebbe il 22 esatto la finale il 22 poi il 28 la Fiorentina poi c'è Inter-Juve poi c'è Roma-Inter poi ricomincia la Champions League tra l'altro se non ricordo male l'anno in cui l'Inter perde lo scudetto col Milan il calo più importante lo ebbe dopo la Supercoppa con Liverpool a fine gennaio inizio febbraio esattamente la parte finale di questo calendario è quello che ti ho detto prima Manu e questo è il periodo brutto e questo mi preoccupa c'è anche un altro aspetto che sembrerà banale e retorico ma non lo è qui oggi hai 2-3-4-5-6 gradi vai a giocare in un paese dove c'è uno sbalzo un'esclusione termica pazzesca l'Inter delle ultime due partite oggettivamente meno brillante meno adatta alla corsa meno capace di offendere oggi a prescindere dal VAR ne abbiamo parlato veramente per tanto tempo il Verona si avesse portato a casa un pareggio non avrebbe rubato nulla vedo una squadra un pochino scarica che poi in Zaghi mi parli del terreno del Mantorvoso di San Siro a me sembra che in Zaghi stia ricadendo un po' in alcuni errori fatti nel passato soprattutto nella gestione degli uomini tipo perché oggi togliere Turamo al 60 bravo bravo una cosa che già inizio anno faceva con costanza perché non la sta prendendo mai bravo però c'è Lautaro torna da un infortunio e alla fine gli ha fatto fare voglio dire 8 minuti Luca ha messo Arnautovic che veramente è vergognoso dall'inizio della stagione che se c'è un settore dove l'Inter certamente non si è rinforzata ma si è indebolita è l'attacco perché Dzeko non è sostituito c'è il cavallo di ritorno Sanchez che secondo me è un cavallo bolso già da 2-3 anni però è una valutazione personale e Arnautovic era un'incognita per l'integrità perché di per sé il giocatore non è male è un bel giocatore Arnautovic al di là del fatto che ha 34 anni fino ad oggi ha tenuto molto bene Lautaro e Turano adesso danno qualche segno di stanchette normale se tu devi sostituirli quelli hai non puoi non farli giocare però in un momento in cui ancora non hai Buchanan perché è appena arrivato non hai il quadrado che era Turano è l'unico giocatore che hai oltre a questi due che non ci sono che sa saltare tu a un certo punto devi saltare perché oggi non saltava più nessuno saltava da fermo no però ha giocato una buona papilla si discreta perché gli manca Lautaro di fianco oggi ce l'aveva però l'autaro aveva celebrato che giocava da 90 partite competitive questo gioca ininterrottamente anche lui da settembre aggiungo il discorso Turam che è una cosa che si ripete perché Michitana Barella e Cialanogo perché anche Cialanogo è in calo da Genova anche il centrocampo dell'Inter continuano ad essere intoccabili almeno fino al 75esimo Fratesi perché Fratesi deve giocare solo gli ultimi 5 minuti perché ha paura di toccare quegli equilibri sono delle cose che in passato gli sono state rimproverate che si diceva quest'anno avesse superato e questo il banco due ha le sue fisse ha le sue fisse Vigitariano Cialanoglu Barella poi questi tre non gli puoi dire niente perché campione d'inverno 48 punti si campione d'inverno però analizza anche il periodo io non so quanto la società possa essere contenta dalle spese una grande cifra per Fratesi in estate e ha una gestione in Zaghi su Fratesi oggettivamente con qualche problema non è contenta la società secondo te no nel senso che comunque no non è contenta cioè credo che la società abbia da eccepire comunque su come viene impiegato Fratesi cioè scusa poi a maggior ragione quando tu magari è un centrocampista l'inflessione chiude l'andata al momento con 5 punti e la seconda 48 punti brillantemente gli ottavi di Champions e la società non è contenta di Fratesi no la gestione della gestione di Fratesi di dell'allenatore eventualmente su Fratesi perché se Fratesi dimostrasse di essere meglio del turco di Mkhitary ma stavamo dicendo Luca che ci sono dei centrocampisti che in questo momento all'Inter sono in flessione se tu hai fatto un grande acquisto in estate lo metti dentro ma come si fa cioè come può una società non essere contenta in questo momento di Simone Inzaghi ma no allora no ma anche della gestione di Fratesi chi se ne frega l'hai comprato a 20 anni sarai di 10 anni hai tempo a poter fare il mio neofemismo per dire per mettere il focus della critica per quanto si possa criticare Simone Inzaghi come dici tu è primo però se tu hai dei centrocampisti in questo momento stanchi e oggi Lautaro dopo la partita lo dice è intervista vero possiamo essere un pochino stanchi se hai un centrocampista che in questo momento non rende a mille non è brillantissimo quest'estate ti hai ripremunito avevi preso un giocatore come Fratesi che tutti davano in estate come titolare poi Inzaghi è bravissimo riesce comunque a computare un centrocampo che fino ad oggi ha funzionato bene però se assolutamente ma se c'ha la o Mkhitaryan assolutamente quello che dico l'ho premesso però se Cialanoglu e Mkhitaryan in questo momento sono stanchi magari più minutaggio fammi sentire anche Massimo se questo non calo perché insomma alla fine comunque oggi ha vinto ma insomma questo rendimento non più così brillante come nei mesi scorsi è fisiologico perché è normale che succeda nell'arco di una stagione oppure può presupporre come dire tempi difficili per l'Inter in vista appunto di un calendario particolarmente complicato Bayerani ma per me sono cali fisiologici che tutte le squadre passano all'interno di una stagione io credo che andare a criticare ora l'andamento dell'Inter mi sembra veramente un qualcosa di paradossale perché come giustamente ha detto qualcuno in studio i numeri parlano chiaro adesso non ricordo 15 vittorie 3 pareggi una sconfitta adesso non so sono numeri che credono credo siano gli stessi che ha fatto il Napoli l'anno scorso non vorrei sbagliare no sono 3 punti detto questo detto questo io credo che l'Inter avrà come peggiore avversario l'Inter stessa perché io credo che se non si incarta vince tranquillamente io credo che purtroppo gli avversari dietro dico purtroppo perché almeno ci sarebbe stata un po' più di bagarre e sarebbe stato un campionato più avvincente secondo me mancano io credo che all'appello manchino due squadre in primis il Milan e il Napoli che a mio avviso io le avevo intitolate come le tre squadre potenzialmente che potevano ambire quest'anno al campionato e che avevano fatto soprattutto il Milan un po' di mercato oggi sono sono lontane a me la Juventus ancora oggi nonostante tutto non non mi convince appieno non lo so ma non credo che arriverà fino alla fine perché poi comunque avendo tutti questi ragazzi giovani che continuano a mettere su cui basa tra virgolette la propria rincorsa sono comunque giocatori che non hanno una grandissima esperienza non sono non sono avvezzi a stare a certi livelli o a combattere certi tipi di partite un certo tipo di campionato quindi io penso che l'Inter se non si incarta avrà strada facile poi non è detto che la squadra poi più forte alla fine d'Inca perché secondo me l'Inter è la più forte del campionato perché abbiamo visto negli altri anni secondo me l'Inter poteva vincere quel campionato che invece ha vinto il Milan l'Inter io l'avevo messa anche come una delle possibili pretendenti quando poi invece ha vinto il Napoli che all'inizio della stagione nessuno dava per favorito e invece ha stravinto il Napoli quindi non è detto che poi la squadra più forte quella più attrezzata quella che ormai è detta da tutti che deve vincere poi alla fine vinca per forza va bene ragazzi mentre a Maieni sono le 16.30 come si vede abbastanza bene dall'orologio alle spalle di Massimo lì sulla sinistra del vostro teleschermo e mentre tra Sassuolo e Fiorentina siamo arrivati all'ottantasettesimo minuto con il Sassuolo ancora avanti per 1-0 ci prendiamo due minuti e poi chiudiamo il discorso Inter tornando sulle famose parole di Acerbi e la spiegazione chiamiamola così data da Simone Inzaghi e Gipomericcio Genoa e Inter possiamo andare a leggerlo insieme faceva dei riferimenti ai soldi spesi in sede di campagna acquisti da parte della Juventus a fronte delle perdite dell'Inter dice Acerbi ricordo alla gente che dice che l'Inter è la squadra più forte del campionato che come sono arrivati tanti giocatori forti sono andati via tanti giocatori forti la Juventus ha speso 200 milioni per gente come Bremer Chiese Vlaovic noi abbiamo preso dei parametri zero abbiamo cambiato tanti giocatori Turam che non pensavo fosse così forte ma anche Carlos Augusto Bissec però sono andati via Brozovic Dzeko Lukaku giocatori fortissimi anche in Europa e abbiamo messo giocatori che erano punti di domanda ma si sono dimostrati molto forti questo disse Acerbi dopo Genoa e Inter di settimana scorsa oggi in qualche modo la questione è stata riportata di nuovo a Simone Inzaghi in conferenza stampa andiamo ad ascoltare le parole del tecnico probabilmente è il pensiero è il pensiero che quando si legge che l'Inter lo si dà per scontato le vittorie i 48 punti non è così non è così perché la classifica non dice questo c'è una squadra attaccata no ci sono altre squadre l'anno scorso con 50 punti del Napoli fine giro di andata c'era c'era il Milan il 38 e l'Inter e le due romane il 37 quindi non è così scontato come tutti dicono e non è così scontato sostituire dei giocatori importantissimi che hanno fatto la storia dell'Inter sostituirli con altri giocatori che chiaramente la società ha fatto tutto il possibile è stata è stata bravissima a mettere in mano a me e al mio staff un'ottima squadra anche quest'anno però con delle difficoltà ci siamo messi lì abbiamo lavorato abbiamo cambiato dei giocatori indispensabili che avevano appena vinto due trofei abbiamo fatto una finale di Champions e abbiamo lavorato quindi probabilmente il pensiero di Francesco è che si dà troppo per scontato e non si danno i giusti meriti a un gruppo che in queste 19 partite ha fatto un grandissimo lavoro che solo se portato a termine darà i propri brutti noi abbiamo sempre sottolineato invece la bontà dei numeri dell'Inter ci mancherebbe ti è dato fastidio Franco essere tirato in ballo da Acerbi con un presupposto però sbagliato perché lui fa ritenimento a 200 milioni spesi però in sessioni di mercato diverse Bremer ha acquistato i soldi di Delict cioè non sono proprio Vlaovic è arrivato un anno e mezzo due anni fa a gennaio io credo che un calciatore debba avere grande rispetto dei propri colleghi poi capisco che Acerbi voglia difendere ovviamente il proprio orticello e non capisco sinceramente tutto questo nervosismo in casa Inter normale il gioco delle pressioni vince uno vince l'altro favorito o meno però Acerbi come dicevi tu Francesco parte da un presupposto completamente sbagliato non mi sembra che quest'estate l'Inter abbia fatto campagna acquisti a zero cioè i giocatori che sono arrivati li ha pagati ha pagato il cartellino quindi sinceramente è un'affermazione ricordiamo subito dopo Genoa Inter quindi probabilmente nervosismo dopo la partita ma è un discorso che secondo me non ha assolutamente senso poco rispettoso nei confronti anche di altri colleghi al netto di tutto in casa Inter dopo Genova ha scattato questo nervosismo e credo che probabilmente non ci sia così questa grande serenità in casa Nerazzurra la Juventus sta facendo il suo concordo con Massimo la Juve non è la favorita la Juve deve cercare di rincorrere rimanere lì però l'Inter ha detta di tutti ci sarà un motivo alla rosa più forte e l'Inter deve provare ad aggiungere questa seconda stella sulla maglia se poi non andrà così allora ovviamente bisogna fare delle analisi molto approfondite si dà per scontato Luca che l'Inter debba vincere come dice Inzaghi e questo è l'errore che viene commesso? no nessuno dà per scontato nulla si parla solo di pronostici di favoritismi di pareri favorevoli non capisco perché questo sia l'unico campionato l'unico sport dove si gioca sempre a nascondino sugli obiettivi cioè l'Inter è la squadra più forte molti dicono addirittura da tre anni lo Scudetto però lo ha vinto solo con Conte ma quest'anno che questa forza sta dimostrando anche sul campo rispetto alle altre io non avrei problemi a dire vogliamo vincere il campionato però l'Inter è l'unica che l'ha detto chi? no non è vero i giocatori l'obiettivo è la seconda stena questo non si stanno nascondendo anzi sono gli unici che l'hanno detto ma perché allora il controsenso il controsenso è questo io ci leggo proprio un passo indietro se all'inizio anno quando abbiamo letto queste dichiarazioni dicevamo tutti è la finale di Champions conquistata ha fatto fare quel click mentale ha fatto far capire alla squadra che sono forti le dichiarazioni di Acerbi quelle che sta l'esultanza infaciti di Marco Gregorio Sbagliato e Danri fanno capire che questa intera è fragile non è fragile non è così non è così solida come ce l'hanno venduta inizio anno mentalmente fragile perché è fragile nel periodo peggio Finaglia non era fragile c'erano tanti giocatori che non erano fragili e provocavano e stuzzicavano e insultavano in un certo modo davano fastidio agli avversari ai tifosi avversari non è una questione di fragilità è una fragilità a Cerbi il poverino nella sua carriera per grandi traguardi non ha mai combattuto perché ha giocato in squadra Di Marco ancora deve laurearsi come dicono in caserma non è questo è che ognuno ha fatto a modo suo gli altri hanno un atteggiamento serio e normale si parlava di una valutazione di Cerbi che può farla anche rispetto a qualcuno perché se tutte le domeniche con tutte le partite ti chiedono vincere il campionato però siete i favoriti allora uno risponde una volta dice vogliamo vincere lo scudetto l'altro dice no come oggi Simone Inzaghi ci sono tante anche altre squadre a seconda del momento dell'umore che hai quando ti fanno la domanda una valutazione più generale anche se in gestione di mercato differente si può fare non ci trovo niente di male anche per un giocatore di 35 anni perché lui fa riferimento all'ultimo mercato e cita una cifra dei giocatori che non sono arrivati a chi ha mancato di rispetto a chi ha mancato di rispetto a chi ha mancato fare dei nomi di colleghi è finale a Reggio Emilia risultato importante per la classifica il Sassuolo vince 1-0 il gol decisivo di Pinamonti nel corso del primo tempo al nono minuto di gioco eccola qui la nuova classifica di Serie A attenzione attenzione perché e ne parleremo subito dopo la pubblicità perché attaccheremo con l'argomento Milan questo è un risultato preziosissimo per il Milan perché la Fiorentina che perde e il Bologna che ieri non va oltre l'1-1 in casa con il Genoa regala una chance non indifferente al Milan di scena a Empoli che potrebbe scavare un solco importante in chiave terzo posto preziosissimo il successo invece del Sassuolo che da 16 salta a quota 19 andando a prendere proprio il Frosinone a quota 19 Frosinone sconfitto in casa oggi pomeriggio per 3-2 dal Mosa e poi anche Roma-Napole-Lazio una bella chance per rientrare assolutamente sì però domani c'è Roma-Atalanta quindi comunque una delle due perde non ho citato l'Atalanta ho citato Roma-Napole-Lazio no no ma infatti Roma-Atalanta diventa molto importante anche per riaffacciarsi nelle zone alte della classifica vale lo stesso discorso per il Napoli di scena a Torino hanno occasioni importanti perché chi stava davanti e quindi Fiorentina e Bologna in questo turno ha rallentato